Lunedì 8 febbraio sarà riattivato il servizio di mensa scolastica per tutti gli istituti comprensivi, ad eccezione di Centro e Santa Chiara, per ragioni organizzative interne, ad annunciarlo il Comune di Brindisi dopo numerosi rinvii a causa dell'emergenza sanitaria. Per consentire il pieno rispetto delle norme sanitarie al momento sarà possibile utilizzare solo materiali monouso, mentre in applicazione alla direttiva regionale l'attività della Commissione Mensa resta sospesa perché comporterebbe l'accesso di persone estranei ai locali scolastici. Era un progetto di cui ci stavamo occupando da tempo perché subito dopo le linee guida regionali per l'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica avevamo già contattato la ditta che ha in gestione l'appalto, quindi la Serenissima, e stavamo valutando quando partire, come partire, certo sempre dopo aver ricevuto il benestare dei dirigenti scolastici della nostra rete. Era arrivato il momento di partire perché è giusto anche offrire alle famiglie questo servizio in quanto sappiamo che chi ha optato per un regime di tempo pieno sono famiglie che hanno bisogno appunto di avere questo servizio a scuola. Subito dopo lo screening anche da noi effettuato c'è stato un po' più di fiducia insomma da parte sia delle famiglie che delle scuole perché con quel risultato che avevamo avuto di un solo caso su quasi insomma 5.000 tra alunni e personale docente, quindi abbiamo deciso poi di ripartire lunedì 8 perché dovevamo dare il tempo alla società di approvvigionarsi del materiale, di mettere in piedi tutta l'organizzazione, tra cui anche la riassunzione del personale che era in casa integrazione.